buongiorno a tutti qua è steve se si blocca lo schermo si fare se si fare rifammelo vedere al volo ecco mi sono abbiata la delta e vereggio una partita di riscaldamento e te la prende da questa comunque adesso vanno fatti quando le mani al giro solo buzi da solo non va a segno armi molto alto persone aggressiva quindi bravo armi vereggio non riesce neanche a parlare quattro palle delta armi sempre più cattivo quattro palle delta tiro di boros e presa numero 9 di vereggio un po in aspettata anche per lui tre palle vereggio che andrà al tiro santoni esterno nicola sto chiamando tira la terza è bisogno di dareggio con i tre palloni pensino sempre che si vada dentro armi veloci a ripartire quattro palle vereggio santoni che stia molto bene contro tiro però forse un po frettato tre palle per volta non penso tiro che non va a boteggine la regia che va al tiro tutto il pesco di santoni ancora molto bravo a schivare quanto bravo quanto male il suo tiro ancora di delta e armi va a segno sul ballero viene eliminato l'idra al tiro e santoni eliminato non reattiva come prima quattro contro quattro doppio tiro da parte dei delta che però non trova i satisperati giro doppio che elimina buzzi l'aliminazione è bel tibi armando molto carico armando oggi doppio tiro di delta forse non voluti e per questo cinque palle per gareggio doppio tiro su armi buona pressione di nicola tre palle delta che però adesso non mi metto perché cristian quattro palle per il delta doppio tiro mi va a eliminare l'esterno sinistro di vereggio tre palle per il delta al minipan al tiro due palle adesso per il delta uno contro due scrivate incredibili rimangono tutte ancora vivi sempre due contro uno alto alto armi molto alto forse un po troppo nicola non va a sopportarlo buona blocchi di nicola però sbaglia il tiro che caldo ora tre palle da suddeltà due palle per il minare e si pide così di set parla di tutto io lo aiuto secondo set iniziato il pino punta un abbraccio e subito buzia il tiro però non trova il bersaglio e allora tre palle delta però ha il possesso di vereggio pressione alto dell'esterno qui si difende bene santoni specca l'occasione del tiro e poi tira e nina il numero 9 sempre sempre quale delta boros al tiro che però non trova sperato minacciamo ragazzi sterni attivi eh sterni attivi sterni attivi minato ancora orselli ed è sempre molto alto molto reattivo uno due tre tre oggi non è il tiro non c'è da fare ma che me ne confonde cinque quattro tre sembra attivo molto attivo Nicola però sbagliati io stavolta però il timing c'era lì video di eugenio prende il provvisto in frontale di vereggio molto femmine in stile di vereggio qualche pressione niente a farlo quello che vuole nel campo quattro palle su per il vereggio bisogna sfruttare doppio tiro su Santoni che viene eliminato e tre quattro palle qui di realtà sicuramente è l'ultimo doppio e infatti non ci prendo mai bonus da solo che è il numero 11 di vereggio c'è un singolo di Buzzi che però non va a fine non va a fine non va a fine e non va a fine un'altra parte quattro palle di vereggio Quattro palle di vereggio armi sfruttare di partenza nel 2000 di vereggio Si copre, si difende con la palla nel seno di Veneggio. Attenzione, Valeri con questo tiro un po' inaspettato. Sempre poso da solo con il seno di destra. Quattro palle. Il tiro su Buzzi da solo, mi ha eliminato. Un po' lento. Un tiro del ballo che non va a fine. Un doppio tiro, bella schivare da parte dell'esterno. Armi sempre molto alto, aggressivo. Tre palle per i delta. Il tiro dell'esterno su Boros, non va a fine. Tiro singolo di Boros. Si difende molto bene. L'esterno di Veneggio. Sta ancora in delta. Armi che stavolta la fredda. Sicuramente Armi gioca con le delta più in forma. E rimane 1 contro 3. Molto alti. Armi schivata, puderosa. Tiro spettacolare, ma agilità assolutamente. Di nota, di nota. E qui doppia. Incredibile. Buona sassu di cola. E armi contro 1 contro 1. Bella blocco. Assume di armi. E tiro. Però non trovava bersaglio. Lina pestata. Armi. Se la cava così. 2 a 0 delta. Ah, sono blu gli eagles. Farà meglio allora. 5 e eagle. Vai lì. Terzo set è iniziato. Quattro palle per i delta. Vareggio sempre un po' troppo... Imprecisa. Per i rossi. Tre palle per Vareggio. Anzi quattro. Di rossi Lucena. Che viene ancora eliminato. Sempre quel saltino che va un po' a tradirlo. Quattro palle di delta. Sia testa, serra e i tasselli. Un po' tiro di delta che però non trova nessuno. Certo. Così... Non più tiro a cercare Giorgio. Di Valleria e Maffei. Indicazione dell'allenatore. Verso i delta. Bella con i due di Nicola. Ecco, si vende molto bene. Il salto. Invece ho visto adesso che sono sprodolato. Però non so cosa vuol dire. Non so. Vedi Valleria. Non trova nessuno. Quattro palle di delta. Cambierò adesso che vuole. Nicola che va al tiro. L'ha effettato. E infatti va avversiando. Tira ancora i testi. Il doc. Chirurgico. Quattro anche... Il ritrodo della partita. Secondo me sì. Quattro. Quattro. Cinque. Cinque palle per i delta. Questa è da sfruttare. Quattro. Quattro. No, solo due po' tiro. Non so sì. Possesso ancora... È fino a te il treno. Non dici più. Possesso ancora per i delta. Devono affrettare il tiro adesso perché manca poco. Qui c'è? 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 Un, due, cinque! Ehm! Al catch! Del numero tre, Forsell! Cinque! Quante! Adesso è venuto un... Quattro contro tre! Veneggio l'ha ribaltata! Tre palle per i veneggio! su cattivo! vedo la botta su balleri, tiro potente di Tasselli e ristabilisce la situazione con un bel 3 contro 3 5, 4, stagoli... Loro loro! 5, 4, 23... Nicola si difende molto bene 4 palle per loro 5, 4, 3... 1 2 2 3 4 3 2 3 3 3 Dopodiché io sui testi, posso spiegarla, forse voglio spiegarla, non va, qua. Eh, probabilmente sta dicendo non è collegato. Ah. Già parla per i due, ti raccontro due. Beh, beh. Le persone fa volere per loro. Eh, perché non c'è nessun problema. No, 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 non c'è nessuno. No. E terminazione, non va, quindi. No. ni c'è nessun problema. Così. No, non riesco. Episani è ancora in campo. Deve invitarti. Tre contro due, tu… hai away from me. Ti rideremo. Cruevo di Tasseli che ti ho provato a Salmo, qualche parola del pervereggio. Non perebbe più. Molto, ok. Duolpottino su Vincola che non va. Fine. Doppio tiro di tasselli e Nicola. No. Si chiama di quattro? Si chiama di quattro? Rosetta si chiama. Pronto. Vado? Buona prestazione da rookie. Dopo passo, comunque lascio anche le scelte messe qui. Ancora tre per i dedo. Stanno in processo loro. Quattro palloni. Qui dentro adesso. Che hanno un'occasione di sfruttare. Doppio tiro su Quisani. Pizzepisani su Giorgio. Scrive bene però. Da solo il doc. Da solo Tazzo. Questa volta va a segno. Pisani il tiro. Si difende molto bene i tasselli. Occhio! Occhio! Pizzepisani. Il doc è molto erattivo. E il ripro tiro. Che non va a segno però nessuno di te. Cazzo schiva bene. Anzi no! E Pisani! Vieni eliminati. Un subizio. Un subizio. Un subizio. Un subizio. Catch valida. Catch valida e linea. Quindi uno contro uno. Un altro uno contro uno. Massimo Rambo a Luisotti. Chi? Qui? Massimo Rambo a Luisotti. Luisotti contro Rosetti. Uno è qui. Lo sentivo con quattro palloni. Si difende bene Luisotti. Ha un bel tiro. Devo stare attento il rookie. Nella squadra di Luisotti. Ancora possesso Rosetti. Luisotti però contro tiro. No! Catch! Di Luisotti. Un po' fortunosa. E due e uno. Quindi. Guarda se ti è iniziato. Consesso Delta. Caretta. E dei bel campi. Una qui! Qui! Qui dentro! 10-1 di bar. No blocking. Su 2-1 per i Delta. Fino il time out. I Delta sono carichi. Si si. Si fanno sentire. No blocking. Si fanno sentire. Testi per l'iniziativa. No. Il baro per l'iniziativa. E Luisotti. Va a colpire Nicola. E quindi. 5 contro 4. Per il vareggio. Tassari da solo. Un po' di bersaglio. Il trio di E. Serra. Doc. Incredibile. Schivata. Musotti. Scivola bene. Lo so prendere. 5 per le ditte. Adesso. 5 per le ditte. Credibile. Schivata dell'esterno. Che non so il nome. Tre falle per il vareggio. Ballero. No. Lui. Ballero. Inserchio. Lui. Te va a eliminare. Cosa? Eh sul pizzo. Sul pizzo. E si. Eh vabbè. Tiro su Santoni. Che su Daselli. Santoni. Schivata. se ne si ed è un bel 4 contro 3 per il pianeggio ok rischia se ne finca tutto, Serra schiava bene, cerca anche la ripartente Serra testi molto attivo se forse ne tira una di troppe, time house delta 3 contro 4, c'è stata interessante questa nel set del possibile paleggio per l'idra 4 palloni, Piotr testi e scriva bene, Serra sul tiro e va a eliminare di suo, ancora testi al tiro testi molto attivo ma tiri abbastanza imprecisi balleri su tasselli, eliminazione importante ancora balleri con due testi testi molto bravo a schivare doppio tiro su l'esterno di viaggio, 4 palle per l'idra tiro su testi e il dottore è molto 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 leale catch buona ma eliminazione, quindi 3 contro 2 praticamente solo un in meno per il pareggio giocata a guzzo del doc e doppio tiro su Pisani forse tirano un po' troppo i delta, no, perché comunque riescono a fare due palle Serra e Caretta, i due veterani di delta Valeri tiro un po' è preciso, Caretta, punta di Caretta per eliminare sia Valeri che Pisani e adesso però i denti tirano troppo oh, Luisotti ce l'ha 3-1 per il delta punto 7 che sta per iniziare è tornato arato per il delta e gli è uscito Nicola adesso probabilmente una formazione titolare per loro per scaldarsi al meglio e tiro su Luisotti mi ha eliminato tiro su testi che mi ha eliminato Pisani mi ha darato palle incrociate e due palle non è sufficiente di difendere 4 palle per il valeggio 3 contro 5 questione pericolosa questa lo singolo 4 palle su arato che se non si difende stranamente non è uno dei suoi 4 contro 3 4 palle per l'idra 5 4 3 tiro doppio su Boros che schiva tutto si difende bene e non e non colpisce però l'esterno di valeggio 5 1 4 3 doppio tiro stavolta eliminare l'esterno eric molto alto fai pressione 3 2 4 4 4 Boros mi ha scuolato doppio tiro doppio eliminazione i dei ritorali non li battono 4 a 1 4 a 1 6 7 iniziato adesso e rientra Buzzi che subito si fa riconoscere con un'eliminazione su Pisani Stefani ha piso la teglia con me è andato molto alto i due esterni di delta molto alti si è andato che morino caretta decidi solo le mani di malfatti su caretta caci di tutto rispetto è andato col tiro tempo fermo fermo tempo tempo fermo no incomprensione tra gli alberi e i giocatori 5-5 chiamate abbastanza strane tiro oh tiro 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 strano tiro strano e difesa buona da parte di Buzzi va poi al tiro ed elimina il numero 17 non 13 Tisano Sì che Pisani Daniele Pitani G lui è solpizio 4 contro 5 il capitale che va a chiamare lo schema 4 palle per l'idra agversivissimi esterni vedete Boros uccidendo stava a prechecciare con le ginocchia incredibile non è riuscita riman fatte Boros molto aggressivo ancora Boros al tiro che sbaglia però la conclusione sono buona 4 palle 5-5 6-3-2-4 4 palle Grazie. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1... 4 balli! 5, 4, 3... Grazie a tutti. Pronti? Tornato. Tre po' adesso. Cinque, quattro, tre, sette. Cinque, quattro, tre, sette. Cinque, quattro, tre, sette. Due, uno. In posizione. Pronti? Quattro, cinque, quattro, tre. Quattro, tre, sette. Quattro, tre, sette. Quattro, tre, sette. Quattro, tre, sette. Quattro. Quattro, tre, sette. Quattro, guardiamo. Tre, due. Vietro. 5, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 5, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 5, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 18, 20, 14, 20, 20, 31, 30, 21, 31, 31, 32, 31, 32, Grazie a tutti. 5, 4, 5, 4, 3, 5, 1, 4, 2, 3. Grazie a tutti. Due, una, finita! Vieni! Cinque, quattro, tre, ecco! 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 Quattro, quattro, ecco! 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 Quattro, ecco!